Signori e signori, buonasera. Sono felice di darvi il benvenuto da parte di Don Antonio, che arriverà tra poco, dell'oratorio, delle catechiste e di tutta la popolazione di vicusati. È bello trovarci qui nella nostra chiesa a festeggiare la nascita di Gesù che accoglie e unisce. Siamo sempre ben lieti di accogliere i vostri inviti, come in questo caso partecipare ai concetti che coinvolgono e vedono protagonisti i bambini dei paesi del nostro comune, a dimostrazione che il Natale abbatte ogni distanza. E speriamo che in futuro vogliate anche voi condividere le nostre iniziative. Nell'augurare una piacevole serata e un buon ascolto, i bambini di vicusati canteranno Buon Natale. Buon ascolto, buona serata. Buon ascolto, buona serata. Buon ascolto, buona serata. A te che vieni da male, a tu l'ore, a tu non ce l'ha. A te che vieni da male, a tu non la sei, a te ne fa la vostra gamba. A te che vieni da me, a tu non mi fa, a tu non mi fa, a tu non mi fai, a tu non mi fai, a tu non mi fai. A chi non ti avvici che io mi troverò Buon Natale, buon Natale Buon Natale, ma c'è che vieni da nessuno Buon Natale, a chi non c'erà Il colore, il colore del mare Che ci spira la felicità Buon Natale, a chi non c'erà Buon Natale, a chi non c'erà Buon Natale, ma c'erà Buon Natale, buon Natale Buon Natale, buon Natale Buon Natale, buon Natale A chi vive in condizioni, a chi sente la libertà A chi stingere le mani e il canale si vincerà Buon Natale, a chi non c'erà Per chi non c'erà Buon Natale, buon Natale Buon Natale, a chi che vieni da nessuno Buon Natale, a chi che vieni da nessuno Buon Natale, a chi che vieni al mare Buon Natale, a chi ha il played a nessuno Buon Natale a te che vivi l'oggano e a parlarti di parti come si fa Prova allora a venire un bel schermo e un sorriso sicuro arriverà Ma che a testa le sanzioni a chi vivi l'oggano non c'erà Ma che a testa le sanzioni a chi vivi l'oggano non c'erà Buon Natale a te che vivi l'oggano e a parlarti di parti come si fa Buon Natale, Buon Natale, Buon Natale Buon Natale Buon Natale a te che vivi l'oggano e a parlarti di parti come si fa Oggi la Chiesa ha festeggiato la Sacra Famiglia di Nazareth Auguriamoci che le nostre famiglie siano sempre culla di amore, di pace, di perdono, di sicurezza e fiducia Adesso saranno i bambini nel discorso che ci manterranno con i canti Gli angeli nelle campagne, venite fedeli, nanita nanna, sarà Natale se, ho il piede Grazie E' pronta Buon Natale a te che vivi l'oggano e a parlare con i canti E nel potere dei contatti, vivi l'oggano e a parlare con i canti E nel potere dei contatti, vivi l'oggano e a parlare con i canti E nel potere dei contatti, vivi l'oginton e vivi l'oggano e vinto Massa donate con tini di sognà tono N小'ho l'ho 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 d'argas E' 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 E Sì, sì, sì. Grazie a tutti. 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 , grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 bravissima. è veramente eccezionale di ragazzi di Pamela. concludo dedicando a ciascuno di noi più presenti le parole di madre Teresa di Calcutta. quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, Ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Alla fine di questa ultima domenica dell'anno, auguriamo a tutti che lo spirito e la magia del Natale resti nei nostri cuori e che il 2016 possa essere un anno rinco di salute, di serenità, grandi progetti ed immense soddisfazioni. Adesso passo il microfono a Don Antonio per un saluto. Giusto, veramente, sono complimenti a tutti i bimbi, tutti i bravissimi, veramente, forse qualche gruppo mi è mancato, però tutti i bravi, veramente, complimenti. Sono bei momenti questi di comunione e di fraternità, se no la comunità pastorale è che cos'è? E' proprio questo, se no possiamo, se non ci riuniamo solo noi preti, anche le comunità si devono unire. Vabbè, oggi che festa era, bambini? Lo sapete, tornate a pressa? La Santa Famiglia. E il Vangelo, sapete come concludeva alla fine? Gesù era sottomesso a Maria e Giuseppe. Voi siete sottomessi a mamma e papà? Gesù però è cresciuto in età, sapienza e grazia. Quindi vi auguro a tutti voi di crescere così, in sapienza e in grazia. Un caro saluto, buona fine e buon principio. Auguri a tutti. Vi ringrazio per la vostra presenza e il vostro calore. L'Icusati vi saluta con il canto e la notte di Natale. Buona serata e grazie. Buona serata e grazie. Buona serata e grazie. Buona serata e grazie. Buona serata. a contare che la notte di Natale è gioiante per te. Chi non può sapere, c'è anche chi non può credere, il genere sta mangiando il migliore d'età. Tutto nel suo guarda, perché dovrei cambiare, questa notte in base è un po' di scelta. Tutto nel suo guarda, perché dovrei cambiare la notte di Natale è gioiante per te. Natale è gioiante per te. Natale è gioiante per te. Tutto nel suo guarda, perché dovrei cambiare la notte di Natale è gioiante per te. 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 Natale è gioiante per te.